Musica Ladri di statue sacre in azione nel quartiere della Vesuviana a Torre del Greco A lanciare l'allarme ai microfoni di tv siti il presidente del comitato di quartiere Giuseppe De Mino Nel quartiere della Vesuviana si sta verificando dei furti nella zona della Vesuviana Via Ignazio Sorrentino, Via dello Sport, Via dell'Atletica, diciamo un po' tutta la zona E questa cosa ci ha allertato un poco perché comunque sono stati anche di valore in alcuni androni Sabato scorso è successo un furto in Via Ignazio Sorrentino dove le persone mi hanno contattato E subito mi sono arrestato e sono andato anche dal commissariato di polizia E mi hanno consigliato di fare un esposto con firme indirizzato sia al commissariato di polizia E sia al comando dei carabinieri per dare un sostegno, un aiuto al quartiere Perché questi furti stanno avvenendo da tre mesi a circa a questa parte E quindi diciamo che il problema è molto sentito dai cittadini Voi avete notato che di solito si verificano nel primo pomeriggio? Sì, i furti avvengono nel primo pomeriggio Diciamo che la zona è un po' tranquilla, non c'è traffico, non ci sono tante persone per le strade Si sono registrati diversi episodi nella zona In particolare tre furti in Via dell'Atletica E l'ultimo sabato scorso nell'androne di un condominio in Via Ignazio Sorrentino Però devo dire anche un'altra cosa In Via dell'Atletica addirittura sono successi tre furti Diciamo da un mese Cioè mettevano la statua ai condomini E poi dopo circa dieci giorni la riprendevano di nuovo Quindi questa cosa è molto sentita nella zona La nostra zona è una zona fatta da anziani Quindi ci tengono molto all'immagine della Madonna Anche perché Torre del Greco è una città mariana Non dimentichiamoci che Torre del Greco siamo devoti alla Madonna, all'Immacolata E quindi la cosa è molto sentita Ancora oggi, stamattina, per l'ennesima volta, ancora due anziani mi hanno fermato Mi hanno detto, Peppe, cerca di fare qualcosa Io gli ho spiegato, guarda, sto su problemi E sto anche prendendo le fibre per portare il problema alle forze dell'ordine Quindi si sono verificati, a quanto lei sta dicendo, numerosi episodi Adesso partirà questa raccolta firme che sarà presentata poi alle forze dell'ordine Voglio prendere perlomeno una cinquantina, un centinaio di firme Perché deve dare più peso alla cosa Quindi appena sono pronto, io credo che per lunedì, martedì, presenterò questo esposto con le firme Ma in questi androni, naturalmente, non ci sono telecamere No, in alcuni androni ci sono telecamere Tanto è vero, in via dell'Atletico, dove sono avvenuti questi tre furti C'era anche la telecamera Però mi hanno riferito che sono entrato con i cascintess Sembrerebbe che sia una gang proprio dedita a questo tipo di furti Sì, infatti, quando sono andato al commissario di polizia Gli spiegavo, loro dicevano, sicuramente saranno persone fuori Torre del Greco Sicuramente Si presume che non sono di Torre del Greco Ci auguriamo comunque che a seguito di questa denuncia Si possa far luce sulla cosa per evitare che altri episodi possano ripetersi Noi ce l'auguriamo perché possono iniziare con l'estate Possono iniziare con l'estate e possono anche entrare nelle case Quindi la cosa è molto sentita Io mi auguro che il commissariato, il questore di Torre del Greco Il comando dei carabinieri prendano a cuore questa situazione